La Samba conquista il punto necessario per disputare i play-off, impattando a Rivera delle Palme contro il Roma City per 1-1, ma scende al quarto posto, complice al successo dell'Avezzano-Sulfano. L'obiettivo minimo è raggiunto, almeno in questa fase, vista la grande delusione per l'epilogo del campionato in generale. La gara contro i Romani arrivava al termine di una dura settimana dopo la sconfitta contro l'Atletico Ascoli, che ha portato al secondo esonero di Mister Lauro, sostituito da Mancinelli, diventato primo allenatore. Non cambia il modulo, il 4-3-3, ma complici anche gli infortuni, varano gli uomini in campo. Difesa, sostanzialmente under, con il solo Capitan Sirri come uomo di esperienza, su cui appoggiano Zoboletti, Pagliari e Chiatante. A centrocampo viene riproposto dal primo minuto Bontaco, adiuvato da Arrigoni e Barberini, mentre in attacco ai confermati Domassini e Senigallesi si aggiunge il rientrante Battista. In Roma City, a ricerca di punti per gli spareggi, schiera in avanti la coppia Sparacello-Direnzo, con l'ex gelonese che occupa il proprio posto a centrocampo. L'inizio è sciocco per il rosso-blu, che dopo 5 minuti sono sotto nel risultato. Corre il quinto, infatti, quando da un cross alla sinistra, Bonello incorna e alza a Campanile sul secondo palo. Palla imprendibile per Ascioti, 0-1 e doccia fredda. La Samb prova a reagire. All'ottavo Pagliari ci prova dei 25 metri, ma conclude sul fondo. Quattro minuti dopo si accende Battista, che è crossa. Senigallesi è anticipato in corner. Dalla bandierina, colpo di testa di Siri, fuori di non molto. La Samb sembra essersi scrollata di dosso all'inizio horror. Si arriva al ventottesimo, quando una punizione di Arrigoni chiama a Rimbo la deviazione in corner. Il copione si ripete dieci minuti dopo, ma anche in questa volta il portiere ospite devia in calcio d'angolo il calcio franco del numero 6 rosso-blu. L'ultima emozione della prima frazione è la regale a Roma City, con un cross dalla sinistra di Todisco, che chiama Ascioti all'uscita bassa, poi Barberini libera. Nella ripresa rientrano i stessi 22 e al nono è ancora Rimbo ad essere erattivo, suspizzata di Barberini. Al quattordicesimo il Roma City rimane in dieci per il secondo giallo rimediato in cinque minuti da Tascoli. I rosso-blu ci credono, ma al ventiduesimo l'ex gelonese arriva a concludere quasi dal fondo, bravo Ascioti a coprire lo specchio. Due minuti dopo si materializza il pareggio. Lancio centrale di Arrigoni per il non entrato Martinello, che anticipa l'uscita di Rimbo e firma la settima rete stagionale. Si arriva al trentasettesimo, quando la Samba reclama un rigore. Fabbrini, entrato al posto di un esausto battista, serve Tomassini. Rasoterra per Pagliari, che entra in aria e carica il tiro, ma cade mentre calcia, lamentando una spinta. L'arbitro fa segno che si può proseguire. Gli uomini di Mancinelli cercano il successo, ma al quarantatreesimo si spongono a un pericoloso contropiede, che porta alla conclusione di Cabella, col pallone che sfila sul secondo palo. Vengono concessi otto minuti di recupero e nel corso del primo Fabbrini serve a Leonardo, che effetta un tiro cross, il quale attraversa l'area di rigore, senza che né Martinello né senigliesi riescono ad arrivarci. Alla fine è 1-1 con la curva nord, che delusa per l'ennesimo risultato negativo, rifiuta il saluto dei calciatori. Domenica, ultima gara a Senigallia, dove si cercherà di recuperare la terza posizione per poter giocare la prima gara dei play-off a Riviera delle Palme contro l'Avezzano.